Ciao a tutti e ben ritrovati, allora oggi andremo a vedere come si fa a fare un insert all'interno di una tabella quindi significa che andremo ad inserire dati all'interno di una tabella che ha già dati oppure vuota allora passiamo al nostro management studio per fare questo ipotizziamo che nel nostro database, nella nostra tabella, premiamo ad esempio la customer per errore abbiamo fatto uno script di delete, ok, faccio una guardia automatica e abbiamo lanciato il delete di tutta la tabella, adesso io lo lancio, perfetto, ho cancellato tutte le righe che sono all'interno della nostra tabella se faccio seleziona le prime mille righe, ok, vedete non c'è più nessun record allora per non andare a sovrascrivere il database completo che recuperano i dati da un backup prendiamo comunque da un backup e facciamo una copia del database e poi dalla tabella che c'è in quel database di recupero andiamo a ristorare tutti i record all'interno del database il principale è quello di produzione allora, chiudiamo qua, facciamo database, facciamo ripristina database facciamo anche uno zoom, ok, ripristina database qui si apre la nostra solita finestra qua gli diciamo che vogliamo recuperare il database MCSS ovviamente se non ce l'avete sempre in sovrappressione trovate il link alla lezione in cui vi spiega come fare il backup e dove trovate anche il link di download per caricare questo database quindi selezioniamo il nostro database, allarghiamo un po' qua che è un po' troppo zoom perfetto, gli diciamo di fare un ripristino completo però non lo voglio sovrascrivere l'esistente quindi su descrizione database ci metto underscore ripristino ok, così creerà un database nuovo chiamato MCSS Masterclass SQL Server Ripristino premiamo ok perfetto, abbiamo fatto il nostro bel ripristino anche che qua è comparso il nostro database allora, l'insert partiamo sempre dalla nostra tabella quindi andiamo sul nostro database origine quello di produzione e facciamo tasto destro crea script per la tabella e andiamo giù e facciamo genera codice per istruzione insert così ce lo prescrive ok, perfetto lui adesso l'ha scritto e ha scritto tutta questa cosa qua che vedete qua allora, lui cosa ha scritto praticamente? qui ha scritto use MCSS vedete, quando lui scrive insert into mette lo schema la libreria e il nome della tabella invece il database me l'ha messo qua io all'inizio avevo detto che questo andava scritto qua ok voi potreste anche scriverlo esattamente così come lo vedete qua quindi nome database schema e tabella perché se voi guardate qua in cima a sinistra vedete qui c'è scritto MCSS ok quindi se io non definisco il database in cui vado ad eseguire questo script lui non capisce dove stanno le informazioni questo è il motivo per cui si definisce sempre il database se io in testata scrivo use nome database e poi scrivo go lui esegue questa risoluzione qua e sa che da qui in poi utilizzerà sempre le informazioni che sono all'interno di questo database quindi posso mettere nel caso faccio delle multi query delle store procedure a valle posso mettere sempre l'inserimento del nome del database ok quindi in questo caso lo script automatico mi genera il codice fatto in questo modo mi scrive use MCSS così non serve più definirlo in basso bene veniamo a noi come si fa fare l'insert allora l'insert si fa sempre inserisci into dentro a dove a questa tabella ok poi cosa si deve scrivere si deve mettere il nome dei campi nel quale si vuole andare ad inserire le informazioni in questo caso quando noi facciamo la scrittura automatica col tasto destro crea script insert ok nuova finestra editor di query lui legge il contenuto di tutti i campi presenti nella nostra tabella dove vogliamo andare a fare un inserimento e mi scrive tutti i nomi dei campi in automatico per questo la generazione di script è spesso molto utile se io dico voglio fare un inserimento completo non posso mettere l'asterisco devo sempre definire l'ordinamento dei campi se io inverto questi due campi qua e poi prendo una tabella dove invece sono ordinati correttamente andrò a fare un inserimento sbagliato quindi questa è la mia tabella di destinazione ok inserisci i dati dentro a questa tabella dove in questi campi e vanno sempre racchiusi con la parentesi quindi insert to schema punto tabella poi si apre una bella tonda non è necessario andare a capo potete andare anche tutto in linea non c'è problema poi per ogni campo mettiamo una virgola mettiamo l'altro campo e andiamo fin giù in fondo e chiudiamo con la tonda perfetto adesso lui qua dice value perché lui presuppone che noi vogliamo andare a fare delle modifiche particolari ma noi in questo caso facciamo un insert semplice poi approfondiamo più avanti questa cosa qua quindi noi dobbiamo andare a prendere i dati da una tabella presente in un database di backup allora cancelliamo tutta questa cosa qua che ha scritto lui ok e gli diciamo ok io voglio fare una selezione di dati select di tutti i record qua lo possiamo fare perché la tabella di ripristino ok che è sotto mcss ripristino è uguale a quella di produzione se avessimo un ordinamento dei campi differenti ricordo che vanno scritti uno a uno e ordinati nel modo corretto io qui uso il select appunto perché l'ordinamento della tabella che sta su ripristino è identico quindi posso scrivere select senza mettere tutti i campi e scrivo from da dove da dove la prendo dal database di ripristino quindi io posso anche prendere questa tabella qua e la posso trascinare vedete posso fare anche drag and drop senza scriverla così lì mi scrive libreria e nome tabella però ricordiamoci se io faccio questa cosa qua sto sbagliando perché perché in testata abbiamo detto guarda qui sto usando il database mcss quindi tutto quello che sta a valle se non vado a definire il nome del database andrà a fare una selezione un is un delete qualsiasi cosa vuoi facciate lo farà prendendo i dati esclusivamente da questo database quindi in questo caso qua qua giù dobbiamo anche andare a definire il nome del database che anche in questo caso possiamo prenderlo e fare drag and drop lo mettiamo qua vedete l'ha scritto e ci mettiamo il punto vedete è tutto rosso perché perché mancava il punto perfetto allora noi qui cosa gli stiamo dicendo mi fai usi questo database per fare questa query qua perché non sto definendo il database qui mi fai un insert to ok all'interno di questa tabella qua e mi usi questi campi qua ok dove vanno appunto definiti uno per uno e poi mi fai la seg di tutti i campi perché tanto sopra li sto prendendo tutti e nell'ordinamento predefinito che c'è all'interno della tabella mi prendi tutti i campi da questo database da questa libreria da questa tabella basta fatto questo non ci resta che eseguire il codice premendo il tasto esegui oppure premiamo il tasto F5 ho premuto F5 qua mi ha detto che ha completato l'inserimento dei record se noi adesso andiamo sulla nostra tabella dove avevamo cancellato tutti i record e facciamo un tasto destro seleziona mille righe ecco che ci compaiono vedete in basso il numero di righe che sono state inserite quindi abbiamo 29 righe all'interno di questa tabella e qui ci sono tutte le informazioni nella lezione precedente avevo cancellato un po' di record in questa lezione sono andato a recuperare i record che praticamente sono andato a cancellare reinserendo tutti se io faccio un secondo insert vedete ripremo 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 io continuo ad inserire dati quindi se rieseguo la query di select vedete che non sono più 29 righe sono diventate 116 quindi avrò inserito tanti record sono andato a duplicare le informazioni quindi bisogna sempre fare attenzione a questa cosa qua ultima cosa se ad esempio non dovete recuperare tutta la tabella anche qui quando gli dice gli dite quali record devo andare ad inserire nella mia tabella di destinazione anche qui potete utilizzare ovviamente la 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 clausola where e mettere ad esempio first name uguale a cos'era christine che vedevamo la scorsa lezione christine ok così lui cosa farà quando eseguirà la selezione da inserire nella tabella andrà a recuperare da questa tabella solo i record che hanno il nome christine dove il campo first name è uguale a christine tutti i restanti record andrà a scartarli perfetto direi che anche con questa lezione è tutto ho preso sul microfono e lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi premendo il bottone rosso che sta qua sotto ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao ciao